Sia importante, insomma, oggi è il giorno ultimo di fare, credo che da oggi scada il contratto con la società in house, credo che da oggi scadano addirittura i contratti di lavoro degli interinari che lavorano in house. So che il sindaco era in CDA in house, insomma, si è divatti in zona Cesarini all'ultimo momento utile, credo che questo funzionale voglia e pretenda di capire cosa sta accadendo, se il contratto è scaduto oggi con la nostra partecipata in house sarà provocato, rinnovato, cosa accadrà domani, cosa accadrà domani ai dipendenti, ai lavoratori, cosa accadrà domani ai servizi, importantissimi, l'innovato fornisce al comune di Aguero, dalle manutenzioni, al verde, sempre in piena stagione turistica, mi sembra già, diciamo così strano, che io debba chiedere queste informazioni in aula, non sappiamo assolutamente niente, il contratto finisce oggi, il 30, domani cosa succede in house, cosa succede ai lavoratori, qualcuno ha queste risposte ai rappresentanti dei cittadini, maggioranza, opposizione, perché loro possono, perché noi possiamo fare il nostro mestiere, cioè dare le risposte a chi rappresentiamo, cioè le deve andare qua, in quest'aula, e come potremo farlo ora, subito, prima di avere discussioni su qualsiasi punto. Grazie. Grazie. Grazie.